Bentornati sul mio canale, io sono Pierpaolo Cavagna e questa è una nuova puntata di Anamnesi dedicata alla storia clinica di Marilyn Monroe. Consacrazione di un mito Il lascito di Hyde le fece avere alcune parti in film mediocre The Fireball, Right Cross, Love Nest, As Young As You Feel, Let It Make It Legal Ma apparve sulla rivista Collier. L'articolo si intitolava La fotomodella bionda della Hollywood del 1951 e recita Il valore della signorina Monroe è salito lo scorso anno più in fretta del costo della vita. Qualche giorno dopo viene pesantemente stroncata da una recensione di un cronista che la incrocia a una festa vestita con un abito bianco La signorina Monroe starebbe meglio vestita con un sacco di patate Una recensione che sarebbe bastata ad ammareggiare chiunque ma non la Marilyn Monroe di metà del 1951 E allora cosa fa? Contatta il fotografo Earl Tyson e il costumista William Tavilla L'uomo dietro a modelli iconici come l'abito rosa e i guanti di Diamonds are a girl's best friend e l'abito bianco con scollo all'americana di In the Seven Years Each E si fa fotografare vestita solamente con un sacco di patate E non si ferma qui Ci fa mettere anche una didascalia sotto Marilyn Monroe non si preoccupa molto delle patate perché tende a ingrassare ma ha deciso di fare qualcosa per le patate Inutile dire che le vendite del tubero schizzano a livello nazionale Nel marzo del 1951 fu una delle presentatrici della cerimonia di premazione degli Oscar Si iscrisse all'Università della California in un corso di critica letteraria e artistica e prese alcune lezioni in recitazione da Michael Chekhov Il 7 aprile del 1952 apparve per la prima volta sulla copertina del settimanale Life Prima di chiudere l'anno ci sono però altri due proiettili da schivare L'opinione pubblica venne a sapere del calendario nuda e che non era orfana E la Monroe da prova ancora una volta di possedere un'intelligenza ben superiore a quella dei suoi detrattori All'America puritana degli anni 50 ciò che preme di più è sapere che Marilyn non solo non è orfana ma ha una madre viva e vegeta ricoverata in un ospedale psichiatrico a carico dello Stato mentre lei adesso prende 750 dollari la settimana E allora lei che fa? Ammette pubblicamente dell'esistenza di Gladys e la fa trasferire dall'ospedale statale da una casa di cura privata affiancandole la propria amministratrice Ines Melson L'operazione è sicuramente azzardata ma mai quanto all'affare del calendario Marilyn è impegnata sul set di La tua bocca brucia dove sta impersonando Nell una babysitter da poco dimessa da un ospedale psichiatrico Il regista del film era Roy Baker Una paziente di un ospedale psichiatrico un regista che di cognome fa Baker Già qui ci sarebbe abbastanza materiale per riempire due taccuini da psicoterapeuta Ma torniamo al problema del calendario Marilyn decide per una strategia di attacco frontale Sì, sono io quella del calendario e sì, le foto le ho fatte tre anni fa perché ero al verde La verità E adesso chi avrebbe il coraggio di sparare addosso a una ragazza costretta dalle vicissitudini? E per di più, il calendario è visivamente di una potenza inaudita Siamo nel 1951 Difficilmente una diva poteva sopravvivere ad un'esposizione fotografica nuda Ma non solo Marilyn ci riesce Ma l'attuente decide di utilizzare l'inusitata ondata pubblicitaria come lancio per il film e rifornisce il reparto pubblicitario dei calendari da distribuire alla stampa Praticamente non esiste un'officina in tutti gli Stati Uniti dove Marilyn non si è appesa alle pareti Dopo pochi mesi uscì il film La confessione della signora Doyle Clash by Night diretto da Fritz Lang è il primo film dove Marilyn compare in locandina ed è anche il primo film a cui lavora prodotto e distribuito dalla RKO Ricordate l'insegna luminosa che si accendeva a intermittenza davanti alla sua camera dell'orfanotrofio? Proprio quella Equilibrismi tra alcol, barbiturici e masaccio Il 1952 è un anno estremamente turbolento Marilyn si trova a dover gestire il passaggio sempre più brusco e faticoso da ragazzotta cresciuta in orfanotrofio a diva hollywoodiana Comincia una relazione con il critico letterario Robert Slazer conosciuto anni prima Dopo qualche giorno trascorso Malibu i due viaggiarono fino a Tijuana dove si sposarono il 4 ottobre Malalites è contraria e sfrutta tutta la sua influenza per convincere Marilyn ad annullare il matrimonio cosa che accadrà tre giorni dopo Intanto lavora a matrimonia sorpresa We Are Not Married con Ginger Rogers il magnifico scherzo Monkey Business con Cary Grant il primo film nel quale apparve con i capelli biondo platino e poi venne invitata la parata per Miss America il 2 settembre 1952 nella quale le ragazze sfilavano in costume da bagno facendosi fotografare per pubblicizzare la campagna di reclutamento ma praticamente nessuno si interessò delle ragazze che sfilarono Marilyn indossava un vestito nero con un profondo scollo a V A questo periodo risale una fugace relazione con Joan Crawford una fra le più celebri star del periodo d'oro di Hollywood due volte premio Oscar Ma tutto questo aveva un costo L'insonnia da cui soffriva da tempo diventava sempre più ostinata e per riuscire ad avere qualche ora di sonno Marilyn tendeva a bere e ad assumere ipnotici che spesso diventavano un abuso in relazione ad eventi stressanti Nei suoi diari scrive Come se non potessi mai parlare, muovermi E ancora Paura di farmi dare le battute nuove Forse non riuscirò a impararle, forse sbaglierò Penseranno che non sono brava Pure arriveranno o mi criticheranno O penseranno che non so recitare Le donne avevano un'espressione severa, critica, ostile e fredda in generale Paura che il regista pensi che non sono brava Ripenso a quando non sapevo fare un accidente di niente Poi cerco di farmi coraggio Dicendomi che ci sono cose che ho fatto giuste Addirittura bene E ho avuto momenti straordinari Ma le cose negative sono più pesanti da portarsi dietro da sentire Non trovo sicurezza Depressa Pazza C'è sempre l'ombra di Norma Jean dietro alla sfavillante luce di Marilyn Monroe Ma basta andare avanti di un paio di pagine per incontrare gli appunti di Marilyn sulla storia italiana La famiglia dei Medici Il primo orfanotrofio di Giovanni di Bicci Ghiberti Brunelleschi Donatello Masaccio E poi ancora il Pantheon, la filosofia greca Marilyn studia Vuole imparare il più possibile Cerca riscatto nella cultura da quella infanzia di rifiuti e abbandoni Sta cercando attivamente un proprio equilibrio Una propria identità Un giorno, scrive Preso un pullman della Greyhound da Monterrey a Salinas Sul pullman ero l'unica persona E poi corregge Donna Con una sessantina di pescatori italiani E non avevo mai incontrato 60 gentiluomini tanto galanti Erano fantastici Una qualche ditta li mandava a sud Dove avrebbero trovato ad aspettarli Barche e speravano pesce Alcuni sapevano a malapena parlare inglese Non adoro solo i greci Adoro anche gli italiani Hanno gran calore umano Energia e cordialità Mi piacerebbe molto andare in Italia un giorno E a Marilyn gli italiani piacevano davvero O almeno uno in particolare Al loro primo appuntamento dopo un pranzo silenzioso Lei lo deve aver guardato con quegli occhi da cerbiatta Perfettamente truccati E gli ha detto C'è un palino blu Esattamente al centro del nodo della sua cravatta Le c'è voluto molto per annodarsela così Lui pare che sia arrossito senza parlare E abbia scosso il capo Lei è Marilyn Monroe E quello che ha di fronte È il più grande giocatore di baseball del suo tempo La massima leggenda di New York Dopo Babe Ruth Giuseppe Paolo Di Maggio O per sempre Joe Di Maggio La diva è il campione La cosa va avanti per quasi due anni Lui vuole sposarsi Ma lei è incerta Siamo al 1953 Marilyn non apparirà in tutta la sua carriera Così perfettamente desiderabile come ora Gira gli uomini preferiscono le bionde Gentlemen prefer blondes Il film è un musical dove recita Affiancata da Jane Russell E anche qui assistiamo ad una delle tante commedie degli opposti La Russell descrive Marilyn come una ragazza Molto timida Molto dolce E molto più intelligente di quanto la gente potesse dar credito Mostrava notevole dedizione nel provare le coreografie ogni sera Anche dopo che la maggior parte della truppa aveva smesso di lavorare Sì ma comincia anche a presentarsi sempre più tardi sul set E a litigare con i registi È contornata da una stuola di assistenti La maestra di recitazione Il parrucchiere Il truccatore E soprattutto dalla paura del palcoscenico Che da qui in avanti non l'abbandonerà mai Prende anche lezioni di recitazione in due scuole Totalmente contrapposte tra loro Quella di Stanislavski e quella di Cochlin Passa ore e ore A guardarsi allo specchio con in mano il manuale di anatomia di Vesalius Studia L'intersezione dei muscoli sulle ossa In modo da capire come modificare la propria immagine corporea Assumendo delle pose che ne esaltino il sex appeal Dimaggio intanto tenta di sottrarla al gioco di Natasha Littes e dei riflettori di Hollywood Ma lei semplicemente lo bypassa E inizia a prendere anche lezioni di musica Rivelando sempre più una capacità istintiva di lavorare secondo il metodo di Chekhov Recita il suo primo ruolo drammatico in Niagara Anche in questo caso il film scontente critici Ma la sua recitazione è perfetta È la prima volta che interpreta un personaggio a un malvagio Marilyn sta tentando in tutti i modi di uscire dallo stereotipo della occa bionda Al New York Times dice Voglio crescere Svilupparmi e recitare importanti ruoli drammatici La mia insegnante in recitazione Natasha Littes dice A tutti che è una grande anima Ma finora nessuno se ne è interessato Il 14 gennaio 1954 Sposa Infine Joe Di Maggio Neanche il tempo di terminare il brindisi Che i due partono per la luna di miele in Giappone Lui dovrebbe fare alcune comparsate per dare la via alla stagione di baseball nel sollevante Lei dovrebbe fare la bella sposina al braccio del campione nazionale Solo che in Corea Urs e USA Alla testa dell'ONU Stavano decidendo come spartirsi il mondo E come sempre gli Stati Uniti avevano inviato migliaia di soldati Con la solita tirittera della guerra lampo Che come al solito si era trasformato in un bagno di sangue In un conflitto di trincea Possiamo immaginare l'umore delle truppe A migliaia di chilometri da casa Ammassati in trincea e fangose A combattere una guerra che come sempre Era decisa da chi sul campo di battaglia non c'era E allora sai cosa viene in mente a quei geni del comando militare? E se facessimo fare uno spettacolo a Marine Monroe? A Camp Pendleton? Davanti a 13.000 soldati con l'umore sotto i piedi? E lei che deve esorcizzare la sua paura del palcoscenico Che deve convincere e convincersi di saper cantare, recitare e ballare Ovviamente dice sì Si fa portare in elicottero sopra il campo Sorvola le truppe sporgendosi fuori fin quasi a cadere Scende dal velivolo vestita nella tuta militare con gli stivali di ordinanza Poi entra in un camerino preparatola bene meglio E ne salta fuori con un abito così aderente Da lasciare ben poco all'immaginazione Fa quello che sa fare Canta, recita e balla E soprattutto fa Marine Monroe Immaginate il boato di 13.000 soldati Raggiunge Di Maggio con 40 di febbre Lui è furente Non riesce in alcun modo a tollerare la sovraesposizione della moglie Ma Marilyn adesso è Marilyn La invitano con Jane Russell A lasciare l'impronta delle mani e dei piedi Nel cemento del Grumans Chinese Theater Alla fine del 1953 Con alle spalle Niagara Gli uomini preferiscono le bionde E come sposarle un milionario Ha fatto incassare alla 20th Century Fox 25 milioni di dollari Circa 45 miliardi di euro attuali Eppure la pagano ancora a 750 dollari la settimana Jane Russell per lo stesso film ne prende 100.000 Ma Marilyn non ci sta E inizia una guerra contro la casa di produzione L'oca bionda affronta il sistema E il sistema risponde alzando un muro Se vincesse la Monroe ben presto Ogni altro attore di valore chiederebbe un aumento di stipendio Ma lei non molla Sa quanto vale E la 20th Century Fox per punizione La spedisce nel Canada nord-occidentale A girare un film di cowboy di serie Z La magnifica preda La relazione con Di Maggio inizia a vacillare E' come se l'energia profusa ad essere Marilyn Monroe Venisse risucchiata da Norma Jean Billy Wilder ci dà una descrizione del sedile posteriore Della sua Cadillac decapotabile nera Ci sono Buttati là Camicette e calzoni da donna Vestiti Busti Vecchie scarpe Vecchie biglietti d'aereo Vecchie amanti per quel che ne so Mai visto una simile porcheria in vita mia In cima a quel disordine c'è un intero fascio di scontrini di parcheggio Si preoccupa di tutto questo? Mi preoccupo io di sapere se il sole tornerà a sorgere domani Sta girando una vampata di calore tropicale Appare scialba nel suo costume La pelle sembra aver perso il suo tono Beve Non è mai stata così poco attraente in un film Finisce l'ultima settimana di ripresa con una lieve infezione E da grande attrice qual è si rende conto di quanto sia brutto il film Non si prende neanche un giorno in riposo E passa immediatamente al set di Quando la moglie è in vacanza È pienotta, quasi grassa Eppure l'incarnazione vivente di salute e bellezza Si rianima ancora una volta Tira fuori dal cilindro una prestazione incredibile Per un'attrice che sull'orlo della separazione dal marito Ha due film atroci alle spalle È in psicoterapia e abusa di alcol e di sostanze Eppure sta pensando di rompere il suo contratto E di avviare una casa di produzione a New York Con un fotografo che non ha mai prodotto un solo film Sul set si presenta con parecchie ore di ritardo Dimentica le battute Insomma, direte voi, un macello Sì, però allo stesso tempo gira la scena più famosa del cinema mondiale Sulla gratta della metropolitana in New York Sussurra a Tom Ewell Con una vocina da Betty Boop Oh, senta il vento della sotterranea La scena è stata girata in studio Ma risulta così potente Che la 20th Century Fox La fa rigirare a favore dei giornalisti Si accalcano migliaia di spettatori Tra cui anche Dimaggio Che ha preteso che lei indossi due paia di slip Per evitare ogni trasparenza Ma alla vista della moglie Ritta sullo sfiatatoio d'aria della metropolitana In mutande bianche Proprio non riesce a reggere A rientro in albergo Il mostro della gelosia A stento tenuto a freno Per tutti questi anni di vampa Gli ospiti dell'albergo sentono gridare A zuffarsi e piangere La mattina dopo Marilyn parte per la California Due settimane dopo Torna a Los Angeles Per annunciare alla stampa il divorzio Quando la moglie è in vacanza è finito Ed è venuto così bene Che il suo agente Charles Spedman Dà un party in suo onore da Romanoff Hollywood dà a Marilyn Il biglietto d'ingresso nel suo establishment Partecipano tutti i più grandi produttori Della casa di produzione E attori del calibro di Jimmy Stewart Gary Cooper Humphrey Bogart E perfino Clark Gable Che si complimenta con lei Due giorni dopo Viene ricoverata in ospedale Per subire un'operazione ginecologica Al suo capezzale Avremmo trovato Joe Di Maggio Ma lei ha già un altro in mente Gli dà la caccia Per un anno intero A colpi di passeggiate E lunghe conversazioni Nella modesta Brooklyn Il tale si chiama Miller In questo stesso periodo Viene presentata anche a Strasberg Miller lo definirà Ingegnere capo di meccanica spirituale Con Strasberg Marilyn esegue esercizi Improvvisazioni Scene d'opera teatrale C'è solo una pecca nel suo lavoro Marilyn è capace di esprimere Qualsiasi emozione Forché l'ira Quando si avvicina Anche solo per un momento Alla rabbia ne perde il controllo E questa si trasforma in dolore Quando in collera Emerge una parte di se stessa Che non ha niente a che fare Con la recitazione Scompare le Marilyn Monroe E riaffiora Norma Jean 1955 La ormai affermata diva di Hollywood Inizia il primo percorso psicoterapeutico Con la dottoressa Margaret Hertz-Ouenberg La prima dei quattro psicoanalisti Che seguiranno Marilyn fino alla morte Psichiatra, neurologa Psicoanalista di origine ungherese Analizzata da Hitchman e Jokl La Ohenberg inizia a scavare Nei traumi infantili Focalizzando la terapia Sul rapporto con la figura Materna e paterna Per Marilyn significa Iniziare a fare i conti In maniera brutale Con Norma Jean Diventa attesa Insonne Sempre più agitata Al punto che un medico Philip Shapiro Le prescrive sedativi e barbiturici E le consiglia di prendere Qualche settimana di riposo Lei ovviamente in pubblico Continua ad apparire splendida Come quando si presenta Un party di beneficenza Al Madison Square Garden Di fronte a 18.000 persone Cavalcando Un elefante rosa Vestita di una calzamaglia Adorna di lustrini e piume E su questa immagine Tra l'onirico E il surreale Anche per oggi ci fermiamo Grazie mille per avermi seguito Fino a questo punto Vi aspetto alla prossima puntata